Nuovi scambi di colpi tra Corea e Pyongyang ha sparato una raffica d'artiglieria verso l'isola di Yongpyong durante presunte esercitazioni militari. La Marina della Corea del Sud ha risposto con tre colpi dopo averne ricevuti altrettanti dal nord, stando a quanto dichiarato dal Ministero degli Interni. Gli scontri si sono verificati nel Mar Giallo, vicino al Northern Limit Line, il confine tra i due paesi stabilito dagli USA dopo la guerra di Corea nel 1953. L'ultimo incidente sulla linea di confine si è verificato a novembre. Nell'attacco rimasero uccise quattro persone, due civili e due militari sudcoreani. Seoul ha accusato Pyongyang anche dell'affondamento di una sua nave da guerra l'anno scorso in cui rimasero uccisi una cinquantina di militari. Le tensioni si erano affievolite dall'inizio dell'anno con ripetuti appelli al dialogo da parte della Corea del Nord.